L'entusiasmo è rimasto sempre lo stesso del primo giorno o le difficoltà a volte lo fanno passare? No, le difficoltà fanno parte della vita, non solo nel calcio ma in tutte le cose che uno fa. Se uno si butta giù per qualsiasi cosa è meglio che sta a casa e non esce. Però mi sembra che tutto sta andando molto bene, speriamo intanto poi nel calcio alla fine tu puoi essere il più bravo del mondo ma sono i risultati che contano. I risultati ci stanno aiutando molto e quindi andiamo avanti. Ecco, vista la posizione i tifosi si chiedono se c'è qualche occasione di mercato, che succede? Sì, adesso vediamo, intanto il mercato inizia dal primo al 18 gennaio e vediamo se ci fossero opportunità in uscita di vedere se riusciamo a fare anche qualche entrata. L'ultima cosa è che hai spesso fatto appelli, messaggi anche ad altri che potrebbero aiutare in questa impresa, altri investitori, si è mosso qualcosa, si gira una volta voce che qualcosa si sta muovendo? Io non lo so, io so che invece che le voci ci dovrebbero essere le certezze. Io sono sincero fino a oggi, se ho sentito anch'io, sapete che sia Grazzini che Alboni seguono questo delicato ingresso di nuovi soci, però sinceramente a oggi 18 dicembre non ho avuto nessuna novità in merito.